buongiorno video di auguri di fine anno fatti un po modo mio poi ci sarà un video in cui macellerò un po di film così evitate di magari di star male poi ci sarà il video della canzone e quella sì che vi farà star male che è dedicata a uno di voi e poi ci sarà un video dedicato invece un altro canale che mi è simpatico perché non si è omologato e spero che non si omologhi mai è stato un anno difficile ragazzi con una coda finale che apre le porte a un anno ancora più difficile e io sarò qui io non sono una persona che ragiona sulla rdc sì il canale è nato sulla scorta di un video fatto per rispondere a una persona che aveva offeso giacomo ma non è quello il mio scopo il mio scopo comunque è cercare di starvi vicini cercare di aiutarvi se non ci sarà la rdc ci sarà comunque bisogno dei consigli suggerimenti di guide di informazioni la povertà non è scomparsa con la rdc e non scomparirà quando scomparirà la rdc anzi ce ne sarà molta di più c'è un governo che ha un'idea del lavoro come ha descritto bene sia travaglio che giannini para schiavista non ci sono altre parole per definirla zurlo può arrampicarsi su tutte le lastre di vetro che vuole ma non può nascondere la realtà realtà che viene dipinta dall'affermazione di cosiddetti ministri raccomandati e rimanisco una cosa su questo canale i commenti sono liberi anche chi non la pensa come me io non cancello i commenti contrari a me io cancello i commenti maleducati e quando dico maleducati parlo di insulti personali rivolti a me o ad altre persone del canale perché questo non è il modo giusto di raffrontarsi con gli altri non è un modo civile ed educato la mia speranza che magari il canale cresca ancora un po l'anno prossimo che magari entrino dei giovani non trentenni così proprio di giovani di ragazzi che comincino a interessarsi dei problemi del lavoro dei problemi dell'occupazione delle difficoltà che si incontrano nello studio delle difficoltà che si incontrano nella vita perché come vi ho detto ci sono dei canali che sono nati sulla scorta del rdc questo canale è nato da quello ma non ha intenzione di fermarsi non ha intenzione di fermarsi perché il bisogno la necessità sono una cosa reale dell'esistenza quello che vi vi esorto e non farvi spezzare non so che è difficile lo so che sarebbe la soluzione più facile farsi spezzare in due ma non è la soluzione giusta non è la strada ricordatevi le porte dell'inferno sono nastricate non sono quelle da seguire perché se voi fate spezzare gliela date vinta gliela date vinta perché quello che vogliono vogliono che voi non siate più persone ma siete sudditi e non è così che bisognerebbe rapportarsi alle persone e non è così che mi rapporto io anch'io le mie speranze i miei sogni per l'anno nuovo che ci sia la pace tra il mio popolo e la palestina che ci sia che finisca quello che sta succedendo tra zuzu e vladimiro che ci si renda veramente conto che stiamo mandando in bacca il pianeta in modo irragionevole insensato semplicemente perché non vogliamo mollare un centimetro del nostro benessere e non parlo della mera sopravvivenza parlo del benessere che sostanzialmente in mano ai ricchi e sono loro i principali sporcatori del pianeta e lo fanno in tanti modi vi dicono che l'auto elettrica è necessaria ma ve la fanno pagare con una mercedes nuova vi dicono che dovete comprare l'iphone di marca e l'iphone di marca costa come quattro telefoni normali però secondo la narrazione steve jobs e la apple dovevano essere gli apri porta perché tutti avessero un cellulare o meglio un computer all'inizio a portata di tutti col cavolo non è a portata di tutti a portata di quelli che hanno soldi vorrei che i ricchi la smettessero di ingrassare a spese dei poveri vorrei che ci fosse meno gente grassa in giro ma più gente con la pancia piena più gente che può permettersi anche di non dover pensare da un giorno all'altro ai dieci euro che non ha vorrei che ci fosse meno carestia nel mondo certo sono sogni ma si vive anche di sogni di speranze ma la cosa importante che questi sogni speranze non dovrebbe cercare di realizzarli facendo anche il suo piccolo nessuno pretende che un uomo solo costruisca una montagna ma a volte sono i piccoli gesti che qualificano le persone il parlare con un estraneo che magari in difficoltà il non girarsi dall'altra parte quando un senza tetto ti tende la mano il far passare una persona in fila perché vedi che non ce la fa stare in piedi perché magari quel momento avrebbe bisogno di tornare a casa prima fare piccoli gesti anche dei piccoli gesti si qualificano gli esseri umani non sono i grandi gesti che devono dipingerci per forza imparare dai nostri errori sarebbe sempre una cosa positiva io ne faccio tanti ne farò ancora tanti nella mia vita perché naturale sbagliare non si annunciano creati perfetti anzi imparare che comunque la vita è nostra si è un dono per i credenti un dono di dio per i non credenti e la natura che ci ha pensato ma è comunque un dono ma poi cosa ne facciamo di questo giorno non decidiamo noi non lo decidono gli altri siamo sempre noi responsabili di ciò che facciamo e di ciò che lasciamo io vorrei che ad esempio qualcuno rispettasse il diritto delle persone a non volere più questo dono perché non riescono più a viverlo pienamente perché la vita non si vive per lavorare si lavora per vivere ma soprattutto non si vive per soffrire come alcuni cercano di raccontare perché la vita deve avere anche le sue gioie le sue felicità e anche il diritto quando tutto questo non c'è più che tu possa scegliere di finire io spero spero non lo so in una stella cometa più che altro che vada direttamente a centrare il parlamento sarebbe l'ideale ma che queste persone capiscano ma io ci credo poco ma si sa mai che hanno sbagliato che stanno sbagliando tante cose è possibile non è possibile non lo so ma a prescindere da questo non dovete mollare perché se mollate loro penseranno di aver fatto la cosa giusta se ci si arrende al male se ci si arrende all'ignavia se ci si arrende all'indolenza poi sono questi i mostri che ne ascono sono queste le persone che vengono che vanno al potere la responsabilità della mia parte politica è immensa in questo è immensa perché ha ragione crozza quando cita per descrivere quello che ha fatto il pd in questi anni cita la frase di pavo picasso di su guernica questo non l'ho fatto io l'avete fatto voi noi di sinistra abbiamo permesso che tutto questo succedesse e ancora adesso non abbiamo le palle per ammetterlo e continuiamo a mettere su figurine figurine perché perché bisogna essere inseriti in un contesto bisogna essere inclusivi bisogna essere bisogna parlare con il bilancino non abbiamo più le palle neanche per dire le nostre vere opinioni perché non si sa mai che qualcuno venga a romperti le balle dicendoti come ti permetti ed è la stessa cosa in cui ci si stanno affrontando con l'attuale premier che non viene trattato come altri premier da una determinata sinistra perché è una donna diciamola tutta perché è una donna ste stronzate le avesse fatto un uomo non si sarebbero limitati a borbottare a uscire con le frasi fatte con le tre i della scatola del comitatone della minchia di diletta sarebbero detonati con volgarità nastro ma no è una donna come se non si valutasse la persona ma si valutasse la sua categoria e io mi sono anche stufato di tutto questo si valutano le persone ad una persona c'è il buono e c'è il cattivo sempre nessuno tranne uno era intonso e l'unico intonso l'hanno messo in croce il resto il resto abbiamo tutti i nostri lati oscuri si deve prendere il buono sapendo che c'è anche l'oscuro fa così la vita è fatta così non so ragazzi io sarò qui con voi a combattere e temo che sarà una battaglia dura una battaglia magari di retroguardia ma non è che perché è una battaglia a perdere che non la si deve combattere anzi la si deve combattere proprio per quello perché anche se si viene sconfitti la nostra sconfitta diventa la cattiva coscienza del padrone e la cattiva coscienza rode dall'interno poi qualcuno la capirà qualcuno no ne comprenderà il valore la ragione riuscire a cambiare le cose è il non fare che non cambia niente è lo stare nel proprio nido che non cambia le cose e i cambiamenti non servono in termini epocali anche i piccoli gesti hanno un loro importanza e qui c'è da combattere tutti insieme non pensiate semplicemente al vostro guscio alla vostra situazione pensate che è una lotta che coinvolge milioni di persone non solo i percettori rdc che sono quelli più in pericolo ma tante persone che in italia non hanno i mezzi per vivere e non hanno neanche la possibilità di rimediare questa situazione perché per uno che ce la fa 90 non ce la fanno è questa la realtà io spero che non siano più 90 che siano 60 50 che siano sempre di più quelli che ce la fanno nonostante lo stato non ti spinga a farcela nonostante questo stato tenda a rimbalzarti perché non premia mai il merito non premia le qualità non premia l'impegno premia la raccomandazione premia l'eccaculismo premia il servilismo cieco premia l'ipocrisia come elemento fondante invece di premiare l'onestà come elemento fondante questo stato si considera che un ottuo gennaio che dice quello che ha detto sul pullman delle famose non voglio dire la parola come folklore in altri stati l'avrebbero linciato a sassate ecco la misura dello stato la si dà anche così cioè del fatto che si perché un siano membri nel governo che possono esprimere queste cose e vi faccio notare che la scemenza detta da berlusconi non è la più grave è molto più grave quello che ha detto l'olobrigida e da una premia responsabile mi sarei aspettato che prendesse suo cognato gli facesse fare il giro di tutta la 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 circonvalazione di roma calci nel culo cosa che non è assolutamente successa perché l'olobrigida è uguale alla boschi uguale alla minetti è lì per grazia ricevuta se dovesse battagliare per le sue capacità non le leggerebbero neanche a fare il guardiano di un portone ecco io vorrei che contro queste cose si battesse contro questa classe politica prevaricatrice a prescindere dal colore contro questa mancanza di sensibilità umana questa cecità verso gli altri non chiudetevi nei vostri gucci pensando che finché io sto bene tutto il resto può andare a puttane perché ragazzi vi faccio una citazione da un videogioco così per chiudere anche in fallout l'unica preoccupazione della popolazione americana era che in casa ci fosse da mangiare che ci fosse robot che facesse da servo e che le cose andassero in modo piano e poi un giorno 23 ottobre 2077 il dattaglio del gioco caddero le bombe e tutto cambiò è cambiato tutto cambia ogni cosa e allora scopri quello che veramente lo stato e scopri che mentre tu eri preoccupato di stare nel tuo guscio lo stato si preoccupava di aumentare e consolidare il suo potere a scapito dei cittadini non riducetevi come i membri del partito del soccine di 1984 che sono terrorizzati dallo stato mentre i membri del partito interno governano avendo un solo ed esclusivo scopo il proprio benessere lo dice chiaramente uriane noi cerchiamo il potere per il potere non ce ne frega un cazzo di tutto il resto cercate di pensare anche al dolore degli altri con questo l'augurio che vi posso fare cercate di essere una nazione un popolo e non tante piccole isole scusate mi sono andato lungo vi abbraccio tutti e per le cose serie ci sentiamo nell'anno nuovo intorno 3 4 ecco dipende un po dalle novità che usciranno ovviamente la legge di bilancio bisognerà discuterne e poi ci saranno da fare gli isè gli isè che per voi sono importanti sono importanti a prescindere dall'rdc ricordatevelo e intanto vi trovo compagno con un po di scemenze che magari guarderete in 4 5 ma anche in 4 5 mi renderanno felice ciao a tutti e buon anno